La signora Ross non può venire, ci vuole venire in casa, non finire l'ospedale. Oh mio Dio, io e te convogliamo a nozze. Fingi bene. Vedrai. Ehi, sono il fidanzato di Jules, George. Sono qui per una rapida visita preconiugale. È chiaro il concetto? Certo. Tu vuoi farmi vergognare, vero? Nei limiti del possibile. Allora, senti, sta lontano da me. George! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Non so perché sono così felice di vederti. È così, è così, no, non so. Così contro natura? No! Oh no! È così meraviglioso! Mamma! 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 Cosa c'è? Ti presento, George. George? Lei è la sorella minore di Kimi? Oh, il fidanzato di Julianne stanno per sposarsi. No, sì. Che succede? Julianne si sposa? Oh mio Dio, state scherzando. Perché non ce l'avevi detto niente? Perché non ci passano niente? Io volevo dirlo, io volevo gridarlo ai quattro venti, ma Jules ha detto no, fagiolino, no. È il gran giorno di Kimi. L'attenzione deve essere concentrata su Kimi. Oh, Jules! Tene, adorabile, Kimi dolce come il miele. Le sue precise parole. Addio, mi viene da piangere. Anche a me. George, sei stato un tesoro a venire alle prove del matrimonio. Voglio che resti a pranzo. Oh, sì, sì! È un'idea assolutamente... Adorabile. La borsa è adorabile, le scarpe adorabili, mi è adorabile. Grazie. Tesoro? Come fai con l'aereo? Annullato.